Taddei su Tiago Motta Balotelli contro 3 va giù punizione e cartellino giallo vedo rosso e c'è l'espulsione di Totti espulso Totti 43esimo minuto del secondo tempo lo avevamo appena detto stavamo giusto dicendo di un Totti nervoso possiamo dire espulsione meritata un Totti stranamente nervoso che ripeto non so se perché la squadra era in svantaggio Totti insegue Balotelli, Balotelli va via, rimpallo e arriva questo calcione di Totti a Balotelli da parte di Totti, inconcepibile, guardate cosa fa da dietro, inconcepibile non si riesce a capire, ha perso la testa completamente, un fallo bruttissimo da dietro devo dire che questa volta in altre opzioni non ci sono neanche applausi di approvazione non ci sono parole Callo, non ci sono parole e Totti non ha fatto una piega, testa bassa sul cartellino rosso, sacro santo da parte di Rizzoli intanto attacca l'Inter con la Roma in 10 non ci fa